La pagina sportiva riprende dal Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia, Grifo due velocità, il Curie è da Saria ma fuori stenta in casa alla miglior media punti della cadetteria, in trasferta va a 0,71 ma adesso può dare la svolta. Il Volley che si butta anche in poesia, oh Sir spazio alla poesia, al Palabarton i tifosi omaggiano i Block Devils sotto forma diversi, a fine anno premio al migliore, quindi vedremo se i tifosi sono anche dei bravi scrittori. Ma ieri scendeva in campo la Ternana per il recupero della prima giornata, tra Ternana e Rimini non c'è stata storia, Ternana 3, Rimini 0, l'11 di De Canio, ritorna al successo dopo due K.O., uniconeo la chance fallita, tra cui una penalty in avvio di ripresa. Bandecchi dalla panchina, plau del Tris e delle Fere, apre Istov, poi nella ripresa reti di Frediani e Nicastro. Ma vi leggiamo oggi anche di questa vicenda che è accaduta lo scorso fine settimana su un campo di prima categoria, serie D. Nove espulsioni alla proficulle, il capitano scrive a Repace e Cra. Allora vediamo che cosa è successo. Nove espulsioni, via per proteste il portiere di scorta e il dirigente accompagnatore che gli sedeva accanto. Poi nel mezzo di una discussione il rosso ha due giocatori, di cui uno in panchina. Quindi è allontanato anche un dirigente, tre calciatori titolari, infine cacciato dal campo il guardialine di parte, sempre per proteste. Questo è accaduto domenica scorsa nell'incontro tra la proficulle e la del Nera. Tanto lavoro per l'arbitro Garofalo che a fine gara è stato scortato dai carabinieri perché la protesta dei giallorossi e dei tifosi pare non si fosse esaurita lì. Il capitano della proficulle ieri, Galletti, espulso anch'egli, ha scritto il presidente degli arbitri Umbri. E ha detto che in oltre 500 partite ho preso solo 4-5 giornate di scalifica. Assistere ai fatti descritti mi ha fatto male. Quello di domenica non ha nulla a che vedere con l'arbitraggio perché il direttore di gala, al di là degli errori tecnici, ha solo contribuito ad esasperare gli animi. E questo accade in un campo di calcio. Andiamo in Serie C, andiamo a parlare di Gubbio, Tour de Force per il Gubbio bisogna inserire la quarta nell'ordine. Arrivano Triestina, Vicenza, Pordenone, Sambe, Virtus e Verona. Le prossime quattro sfide sono impegnative per il Rosso Blu. In eccellenza a Città della Pieve, De Vincenzi, para tutto. Il portiere dice una vittoria dedicata al nostro massaggiatore Giancarlo. È arrivato in prestito proprio dal Gubbio. Andiamo al messaggero. Solo la Juve, meglio di Perugia e Lecce. Sabato sarà una super sfida. Grifoni e Salentini in gran forma. Nell'ultimo mese secondi nel rendimento soltanto a Madama. La squadra di Nesta vola in casa. Quella di Liberani in esterna. Al Via del Mare vincerà chi riuscirà a limare i propri difetti. Andiamo a Gubbio. Berlusconi vuole Marchi al Monza. Pronta una maxi offerta al Gubbio. Berlusconi e Galliani vogliono Ettore Marchi. Per potenziare il Monza. Non baderanno a spese nel mercato di gennaio. Hanno dato pieno mandato al direttore sportivo di trovare le soluzioni giuste. Già iniziata la trattativa con il presidente Sauro Notari e con lo stesso giocatore. E poi andiamo a parlare della Ternana. La Ternana si rialza con tre gol al Rimini. Dopo le sconfitte pesanti contro Pordenone e Vicenza arriva il riscatto immediato allo stadio Liberati. E con il Rimini è 3-0. E ancora andiamo a parlare di tennis. Sofia D'Afoligno a Nairobi. I talenti della Tennis Training School vincono ovunque. La Pizzoni si è aggiudicata il torneo ETF East Africa Junior e dice Sono molto soddisfatta. Ho giocato bene sempre. È difficile adattarsi ma dai quarti in poi ho sempre alzato il livello. E allora complimenti. Torniamo al calcio. Andiamo a Spoleto. La Ducato cerca una punta. Via Gagi verso il taglio anche Stella. E poi il podismo. Invernalissima a Bastia Umbra. Obiettivo 2.000 partecipanti. E per il basket di Serie C Silver. Assisi vince per il distacco. Umbertide per 2 punti. Ancora a Città di Castello. Parliamo di scacchi. Arrivano gli scacchi da venerdì a domenica. I nazionali. Ci fermiamo per... Ah no scusate. Scusate l'errore. La dimenticanza. C'era ovviamente anche la pagina della Nazione. Da Perugia. Nesta e Liverani. 90 minuti da nemici. Il tecnico del Grifo e quello del Lecce sono amici dai tempi della Lazio. Ed ora c'è per loro la sfida nella sfida. Mentre il coordinamento dei tifosi organizza la trasferta in Puglia. La Ternana con i giovani vince e convince. Il 3 a 0 con i Rimini. A Gubbio il DS Pannacci dice valutiamo correttivi. In eccellenza da Foligno parla Pinzaia. Il nostro obiettivo è la promozione. Ci fermiamo ora per pochissimi secondi. La copertina del nostro medio. Finalmente SEP c'è. Il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in Via dell'Arboreto. Anna Bonaiuto sarà al Teatro Luca Ronconi di Gubbio mercoledì 5 dicembre alle 21 con La Divina Sara. Dunque la giornata odierna si apre con cieli poco nuvolosi. Nel corso della giornata avremo un aumento della nuvolosità con nuvole transitorie che tuttavia non produrranno precipitazioni. Nebbie però di primo mattino e in tarda serata su tutte le pianure e le vallate. Le temperature le minime tra 3 e 5 gradi, le massime tra 11 e 13. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata. Buona giornata.